Lo Young Sant'Arcangelo viene beffato in extremis tra le mura amiche dal Delfini Rimini nella ventitresima giornata del Giro Neac di prima categoria. Al Mazzola finisce 1-1. La prima conclusione dei giallo-blu di Sorrentino dopo nemmeno un minuto destro che termina altissimo. Al settimo penetrazione ospite con Zamponi, il suo pallone insidioso in mezzo viene respinto in corner. Dalla bandierina, sfortunato della Marchina, il suo colpo di testa accoglie la traversa. Al dodicesimo si vede Lo Young con il tiro di Azzurro che finisce largo. Al ventunesimo ci prova Righini su punizione per il Delfini ma la palla esce a lato. Al ventiseisimo ancora gli ospiti ma il colpo di testa di Zamponi è debole e Claidi raccoglie senza affanni. Al ventinovesimo destro secco di Della Marchina e il portiere di casa deve chiudere in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner ancora Zamponi ci prova al volo, palla alta. Al trentanovesimo si vede Lo Young a Sant'Arcangelo con l'insidiosa conclusione di Fuchi e Berardi deve intervenire in due tempi. Un minuto dopo ancora il numero sette su punizione e ancora Berardi che interviene. Il duello tra i due prosegue al quarantatresimo quando Fuchi sguscia e calcia ma centralmente. Al decimo della ripresa Sorrentino prima mette un pallone in area senza che nessun compagno raccolga l'invito e nell'azione successiva calcia un gran destro che si stampa sulla traversa. Al diciassettesimo ancora Young a sinistro di Brizzolara para senza affanni Berardi. Al ventitresimo cross da sinistra di Rocchi per lo Young il pallone balla in area senza che nessun compagno riesca a concludere. Al trentesimo Sant'Arcangelo pericolosissimo nell'area piccola con Berardi che respinge una conclusione ravvicinata sugli sviluppi di un corner. E ancora Berardi al trentatresimo deve intervenire per sventare un cross di Zangoli. Ma al trentasesimo gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati. Ancora un cross di Rocchi. Fuchi interviene di testa e infila Berardi per l'1-0. Al quarantesimo ancora i giallo-blu con la fuga di De Paoli sulla sinistra che si allunga un po' il pallone e il suo suggerimento non trova i compagni. Al novantesimo Fuchi ci prova ancora su punizione ma Berardi blocca. Ma la beffa per i padroni di casa arriva in pieno recupero. Su un calcio di punizione il pallone deviato spiova in area e Morolli di testa coglie l'1-1. Per lo Young Sant'Arcangelo è il primo stop dopo cinque vittorie consecutive. Il Delfini Rimini centra invece il quinto risultato utile di fila.